Salve a tutti, siamo per fare un test, questo è un video test su Roma, un giro in bicicletta riprendendo con una camera, con una Steadicam Quindi in inglese questo è un video test per riprendere un video per andare su un bicicletta per le strade di Roma Ok, ecco già si comincia bene, pieno di turisti, così cominciamo, ok, andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti